Franco Lorenzoni, 1953, romano, per 40 anni insegnato in una scuola elementare a Giove in Umbria, da quest'anno in pensione, da sempre però si è occupato anche di pedagogia e sperimentazione all'interno della scuola. Il suo modello di scuola è una scuola senza muri, aperta, dove il maestro, l'insegnante dialoga, fa partecipare e interviene. Sono momenti difficili perché come è il caso a Lodi, invece sembra che anche nelle scuole arrivino dei muri, bambini che mangiano in stanze separate, bambini che magari perché non hanno i soldi della retta non possono stare con i loro compagni. Che cosa sta accadendo nelle scuole d'Italia? Il caso di Lodi è un vero e proprio caso di discriminazione, nel senso che i bambini, non è che sono bambini, sono i bambini immigrati che gli è stato impedito di mangiare con gli altri perché gli è stata proposta una quota massima, come se fossero ricche, le famiglie ricche, con un astrusa pretesto burocratico che loro dovevano certificare che in patria non avevano proprietà, cioè documenti inaccessibili e quindi di fatto è stata un'opera di discriminazione molto precisa. Però io devo dire che le scuole italiane, nella loro stragrande maggioranza, soprattutto le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, anche in parte la scuola media, diciamo, in questi anni hanno fatto un lavoro straordinario rispetto all'integrazione. Cioè se c'è un luogo pubblico dove gli immigrati sono stati accolti, questa è sicuramente la scuola, con alti e bassi, con grandi difficoltà in certi casi, spinte contraddittorie, come appunto la storia di Lodi dimostra. Però, diciamo, la scuola statale tiene come luogo di costruzione, di democrazia, come luogo di inclusione.